Buonasera a tutti ragazzi, da Zebra, e si continua sulla stessa musica, non cambia, la musica non cambia, Pogba esce infortunato, Gatti si ferma, cominciano ad arrivare i primi infortuni, e su questo è Pogba. Pogba, prima di continuare ragazzi, mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like al video. Allora, parliamo di Pogba ragazzi, l'ennesimo infortunio, ma dalle ultime che arrivano, si può, è una tra virgolette notizia positiva, si può escludere una lesione muscolare, ma sembrerebbe più che altro un affaticamento muscolare. Un affaticamento che si può recuperare in pochi giorni, massimo una settimana, due, e tutto ciò cade a pennello perché comunque adesso c'è la sosta per le nazionali, ma a prescindere dalla sosta per le nazionali. Questo giocatore ormai, io credo che ve l'ho già detto, è ridetto, è ridetto. Pogba, tecnicamente ragazzi, non si può discutere. Ieri quando è entrato ha cambiato la partita, ha cambiato il volto del centrocampo della Juventus. Io lo continuo a sostenere, noi possiamo dare le colpe a Massimiliano Allegri e sono totalmente d'accordo con voi e sono il primo a non voler più Massimiliano Allegri su quella panchina. Anche ieri l'ennesimo scempio a livello di gioco, niente, mi sono addormentato. È come se mi fossi preso le gocce per dormire. Se voglio prendere le medicine basta guardare la Juventus. Ma a prescindere da questo, andiamo oltre Massimiliano Allegri. In questa squadra, focalizziamoci sul centrocampo, mancano giocatori di qualità. Mancano giocatori che ti possono fare il salto di qualità alla squadra. Il gioco si sviluppa anche con la qualità, con i giocatori di qualità. E quando è entrato Pogba si è vista la differenza. Quel Pogba che è al 20% ti crea, ti aumenta la velocità di gioco e di pensiero che gli altri non hanno. La tecnica che gli altri non hanno. Ma purtroppo, purtroppo, questo calciatore ormai è finito ragazzi. Ma guardiamo in faccia la realtà. Questo calciatore, Pogba, con tutto il bene che gli voglio, perché io gli sarò sempre grado, comunque, a quello che ha dato la Juventus, è un giocatore finito. Purtroppo è logoro. Ormai, muscolalmente, non può più reggere ritmi del genere. Il suo fisico non gli regge più. Lo vogliamo capire, sì o no? E questo è quello che doveva fare, secondo me, quest'estate la Juventus. Purtroppo. Allontanare, mandar via Pogba. In qualche modo far risparmiare sul suo ingaggio. Perché l'avevo già detto, questo calciatore quest'anno, comunque, a Stenti ne farà 3-4, messi insieme, a livello di minutaggio. E abbiamo la riprova, ragazzi. Abbiamo la prova e possiamo stare lì a dire, facciamolo entrare il più tardi possibile, facciamolo recuperare i 3-4 mesi. Entrerà e si romperà lo stesso. Si romperà lo stesso. Non cambia niente. E stiamo qui a dire sempre le stesse identiche cose. Pogba doveva essere già, e doveva essere già sostituito quest'estate. Ora, senza coppe, cominciano i primi infortuni. E ci può anche stare. Ma basta. Ma basta. Mi sembra che siamo veramente sulla falsa riga della stagione scorsa. A livello di gioco, a livello di infortunio, a livello di risultati. Perché ieri, ragazzi, è stato un Empoli. Parliamoci chiari. Scarso. 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 E tu comunque hai fatto fatica a portarti sul 2-0. Il primo gol è arrivato su una carambola all'inmezzo che non si è capito un cazzo. Non si è capito nulla. Poi è arrivato Danilo, si è trovato il pallone, un calcio di rigore e l'ha messa dentro. Chiesa con caparbietà, con forza, determinazione, è andata a prendersi quel gol. Ma se andiamo a valutare tutto il sistema di gioco di tutta la partita, è stata una partita orrenda, con un Empoli orrendo. Ora, se andiamo a prendere una squadra che gioca a calcio, come il Bologna, organizzata, arriva che ti mette in difficoltà. Ti mettono in difficoltà. Adesso vedete la Lazio. Se la Lazio dovesse, perché la Lazio purtroppo si alterna, ma se dovesse giocare con la stessa intensità e qualità che ha giocato con il Napoli, ragazzuoni, perdi. Con la Lazio, noi perderemo. Se giochiamo in questo modo e loro dovessero fare la prestazione normale, giocare di qualità come aveva fatto a Napoli, noi perdiamo. Perdiamo. Ok? E non la posso neanche guardare, perché quel giorno io mi sposerò. Sarà il mio matrimonio, quindi non guarderò neanche la partita, porca di quella. Però ragazzi, è purtroppo così. Mi devo sposare, quindi non posso vederla. Comunque, questo è il succo di tutto, ragazzi. Quindi, come sempre, io vi chiedo di lasciare un bel like, di iscriversi a chi non l'ha fatto. E ci vediamo nella prossima. Mi raccomando, commentate. Commentate. Comunque vada. Mi dispiace proprio qua. Un grosso abbraccio. E comunque, fino alla fine, forza Juve. Sempre. Alla prossima. Ciao ragazzi.